Buonasera mister, oggi per voi è un pareggio, vi ritenete soddisfatti? Alla fine assolutamente sì, perché la partita siamo riusciti a tirare lassù, però sono stati bravi loro al primo tempo, ci hanno gradito, hanno messo corso, hanno messo intensità, noi abbiamo sbagliato totalmente l'approccio, proprio totalmente tutti quanti, me compreso gli unici che erano in campo, quindi abbiamo proprio sbagliato completamente il primo tempo, loro sono stati bravi, hanno messo sulla corsa, la fisicità, poi hanno fatto due gol su palline a team, però ci stava tutto il 2-0 del primo tempo, poi però siamo stati bravi, nonostante le difficoltà, nonostante l'espulsione, poi pareggiate chiaramente dalla loro espulsione, e siamo stati bravi a crederci, abbiamo tirato su, anzi siamo stati bravi a continuare ancora a crederci, però è un punto pesante che ci tiene lontani dal sesto posto, quindi vediamo come riusciamo a finire nel campionato, siamo contenti alla fine. E come avete preparato la gara? La gara l'avevamo preparata in modo di venire qua, riuscire a fare la partita che stavamo facendo, invece loro non ce l'hanno permesso, ci hanno messo su un campo che, come magari li messi un po' più piccoli rispetto agli altri, ci hanno messo sulla aggressività, sulla corsa, sulla fisicità, e noi non siamo riusciti a fare quello che c'eravamo detti anche in preparazione della partita, quindi niente, sono stati bravissimi loro il primo tempo, veramente molto molto bravi loro il primo tempo, noi ci abbiamo messo del nostro perché tutti quanti abbiamo sbagliato l'approccio, totalmente tutti quanti abbiamo sbagliato l'approccio il primo tempo, bene la reazione del secondo tempo e sono contento che abbia tirato su. Grazie.